Un oggetto può dirsi culturale nella misura in cui resiste nel tempo. Ripartiamo quindi alla frase di Anne Arendt scelta da questa giornata studi per aprire questa seconda sezione di esperienze pratiche sul tema dei depositi. La resistenza nel tempo di un oggetto dipende da molti fattori, ma sicuramente la cura è imprescindibile. Nella sessione che ci ha preceduto abbiamo parlato di politiche, di proposte culturali, alcune ci hanno anche sorpreso positivamente, di attuazioni, depositi. Carlo, quando si comincia un tanto? Intanto mi presento anche come Commissione Sicurezza e Merchezza dell'ICOM. Diciamo che abbiamo comunque avuto, abbiamo già iniziato a vedere delle esperienze positive. Ora metteremo le mani dentro, potrei dire, alla materia per scavare sulle buone pratiche che esistono, sta rappresentato in questa sessione un deposito di polo, un deposito di emergenza, un deposito archeologico e anche le logiche che stanno dietro ai depositi. Le foto che scorrono ai miei spalle sono scattate nel Centro di Conservazione di Risorse del Mucem. Il Mucem è il museo della civiltà d'Europa e del Mediterraneo di Marsiglia, 44 mila metri quadri, deloperizzato in tre siti, di cui uno solo è dedicato al deposito. Questo è strettamente dotato dalla forza volontà politica, ci sa così, all'epoca, di dare in mano all'archietto francese del Udi Ricciotti questa eccellenza di polo e per garantire la conservazione di beni particolarmente vulnerabili come sono quelli demotropologici, ma anche come deposito di emergenza in caso di pericoli su tutto il territorio del sud della Francia. Un luogo dove ogni due anni si tiene un corso di formazione con un'esercitazione in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Patrimonio della Francia per prevedere i rischi in emergenza del patrimonio culturale. In questo corso è proprio un corso destinato ai professionisti museali. I depositi o reserve, come vengono chiamati i francesi, sono degli spazi importanti per i professionisti museali perché nati per assicurare l'integrità degli oggetti oggi noi ci poniamo il problema soprattutto di renderli fruibili e quindi farne in modo che questi siano anche luoghi di conoscenza. Questi spazi a volte diventano poi soprattutto dei luoghi in cui si mette in pratica l'emergenza, come abbiamo detto. Mi metto alcune immagini dove vedete delle esercitazioni sia a livello nazionale che internazionale sulle procedure proprio della movimentazione delle opere in emergenza. I depositi emergenziali, nella mia esperienza, mi portano a constatare che molto si è fatto in termini di normativa e la direttiva del 23 aprile 2015 sulle procedure della gestione di attività e mette in sicurezza della salvaguardia del patrimonio culturale sono finalizzati proprio ad impartire disposizione degli uffici del MIBAC per garantire massima tempestività ed efficacia nelle azioni. Un nuovo modello gestionale messo a punto dalla direttiva individua unità di crisi come il soggetto coordinatore e attuatore delle attività di recupero e cita su disposizione del segretariato regionale della sua funzione di coordinatore pianifica e organizza l'attività in rilievo dei danni e di interventi e la messa in sicurezza dei beni mobili e immobili compresi gli eventuali interventi di recupero allontanamento e trasferimento del deposito temporaneo. Sarà sempre il segretario regionale a coordinare la gestione dei depositi temporanei e gli eventuali laboratori di pronto intervento. La stessa direttiva specifica infatti che la necessità di collocare i beni culturali mobili in depositi temporanei richiede al segretariato di individuare preferimente in condizioni non emergenziali i luoghi potenzialmente idonei sia la relazione di sicurezza e conservazione dei beni. Molto spesso la camminità però ci prende alla sprovvista. Quando poi le calamità si sommano ed il personale a disposizione non è sufficiente allora il sistema salta nonostante delle buone normative. Queste immagini che voi vedete sono dei depositi che hanno funzionato e di alcuni depositi che non hanno funzionato e che continuano ad essere comunque un problema. La ricognizione dello stato di depositi nel nostro paese è quello che, questo per esempio, è il deposito di Icelano-Paludi subito dopo il terremoto del sisma del 2009 che è stata un'esperienza positiva per certi versi anche perché poi ha permesso di ospitare anche dei laboratori immediati. Io direi che la ricognizione, partiamo subito con questa seconda sessione in modo da vedere, da toccare sulla pratica quali sono queste esperienze italiane. Partirei subito con Marta Ragostini direttore del Polo Museale della Basilicata che ci parlerà dei depositi del Polo Museale della Basilicata come opportunità per Matera. se Carlo Lanci... E io vado avanti con questo? Qui? Mi manca... Eccolo qua, perfetto. Iniziamo. Con questo io vado avanti? No. Spiegatemi il funzionamento che non me lo gestisce. Carla di Franchet, come c'è ancora? Ah, ok. Se no, perché è più comodo che me lo possa fare io da sola. Aveva funzionato fino adesso. Eh, infatti non è che non lo so usare. Allora, intanto... Mentre... Così funziona questo? Così funziona... Allora, mentre si ricaricano le pile del... Eccolo, magnifico. Grazie mille. Questo qua, sì. Ok, perfetto. Allora, io ho già fatto dei saluti questa mattina e ho fatto dei saluti un po' formali questa mattina perché dovevo salutare le autorità, dovevo anche un po' supplire perché poi sono arrivate così, alla spicciolata. E adesso devo fare dei saluti un po' diversi perché in questa sala, che è la sala più importante forse del Polo Museo della Basilicata, non solamente del Museo di Palazzo Lanfranchi. Il Museo di Palazzo Lanfranchi è stato il centro di tutto il processo. Il Polo Museale è il partner, diciamo, il compagno di strada, l'alleato numero uno della Fondazione Matera Basilicata 2019. Adesso vi parlo un momento, prima di entrare, anzi di scendere nei depositi, vi parlo un po' del Polo. Però voglio dire una cosa su questa sala, su questo museo e sulle persone che sono qui oggi. E per questo devo fare dei saluti un po' meno formali. In questa sala ci sono tantissimi amici. Tantissimi amici perché siamo, insomma, un grande gruppo di persone, di professionisti che di appuntamento in appuntamento si rincontra, si riconosce, scambia, discute, nazionali e internazionali. Però personalmente in questa sala ci sono oltre le persone che lavorano con me, ce ne sono molte, alcune saranno ringraziate personalmente perché hanno contribuito in diversi modi a darmi elementi e supporto per le cose che adesso vi racconto. E ci sono anche amici di altri tempi, amici, colleghi, compagni di strada. E per me una maestra che sta entrando adesso, arriva per ultima, è Carla Di Francesco, che io devo ringraziare insieme a Cristina Ambrosini. Io e Cristina abbiamo condiviso per diversi anni, non pochi anni, nella nostra formazione, molti, un'esperienza molto importante che è stata quella della direzione regionale della Lombardia, che è stata diretta per un bel periodo da Carla. Io posso dire che Carla è stata la persona che dal punto di vista professionale, di formazione professionale, mi ha insegnato di più. e quindi le sono grata e sono particolarmente contenta che lei sia stata qui anche con funzioni di lavoro con noi, nelle cose che il Polo Museale sta facendo, io sto facendo, insomma, è molto confortante ritrovare sul piano lavorativo persone così importanti e sono particolarmente contenta. Quindi ringrazio la Presidente di ICOM e la Presidente di questo panel per aver voluto carla a questo tavolo con me e con Cristina, che è una situazione abbastanza... ricordavamo, io e Cristina abbiamo vissuto insieme un'esperienza in segreteria tecnica da archeologa e da storica dell'arte e lei mi diceva che è stata burrascosa ma di grande affetto, litigavamo tutti i giorni perché era importante forse anche se uno... questo va detto ai più giovani colleghi che poi anche dallo scontro, dal confronto diciamo vibrato, vivo, nascono cose importanti e anche relazioni umane molto solide e così entro nel... Ah no, poi ci sono tante altre persone, persone che io non vedevo da molto tempo, Alessandra Motola che mi fa piacere incontrare, Claudia, ti chiami? Claudia Baroncini, ho ricordato giusto? Io penso di perdere la memoria. Claudia Baroncini con cui abbiamo fatto verla ti ricorderai quel progetto Adimola così importante di arte pubblica, insomma, e tanti altri, Martina, Alberta, ci sono tante persone, Adele, tante persone in questa sala che io sono felice di Daniele Giallà che non vedo, poi i colleghi, gli amici, Rosanna Binacchi che arriva da Roma, insomma, ci sono davvero le persone della Calabria, tanti amici, è bello e anche in qualche modo una bella emozione ritrovare persone che invece non si vedevano da tanto tempo, le relazioni. Il museo, lo diceva molto bene Daniele, chiudendo, ritornando al museo della quarta età e parlava del museo come luogo tutto diverso rispetto al passato e alle idee che nel tempo abbiamo stratificato. Il museo, per me lo voglio dire, perché così entriamo nel vivo del racconto che voglio fare io, è un luogo di relazioni, è un luogo di relazioni ovviamente con gli oggetti, le opere d'arte nel caso del Museo Nazionale dell'arte medievale moderna e anche di fotografia adesso che sta nell'arte moderna di Palazzo Lanfranchi, di reperti, di oggetti, per quanto riguarda gli altri musei del polo museale regionale della Basilicata, adesso di questo voglio dire qualcosa, ma in particolare secondo me, secondo l'esperienza che io sono riuscito, ho avuto la fortuna di fare in questo luogo in questi anni così speciali, così importanti, insieme alle tante persone che hanno lavorato e stanno lavorando con me all'interno, ma anche alle tantissime persone che lavorano con attitudini professionali, esperienze professionali, ma non solo all'esterno, posso dire che le relazioni più importanti che all'interno dei nostri musei noi dobbiamo riuscire a conservare, a valorizzare, sono quelle tra le persone, sono le persone i beni culturali più importanti che noi nei musei, nei luoghi della cultura e nei luoghi poi della comunità dobbiamo saper valorizzare, dobbiamo rendere i nostri luoghi accessibili, aperti, come dire, il più possibile inclusivi, tutte cose che sono per noi parole del nostro lessico, parole, posso dire, per banalizzare, un po' delle parole d'ordine, quello che trasmettiamo, trasferiamo alle persone che vengono a lavorare con noi, cerchiamo di trasferire alle comunità sempre più larghe che intorno a noi si raccolgono, però questo tema della relazione, questo tema della persona come, è una butata, lo sapete, lo capite, insomma, è chiaro che il discorso è molto più articolato, molto più complicato, molto più raffinato, però pensare che all'interno di un museo il bene culturale più importante da conservare è la persona che ci lavora, che può entrare, che entra in relazione con chi lavora, che entra in relazione con quel luogo che è il museo e come è fatto il museo, adesso lo vediamo tutto il giorno che parliamo del fatto che un museo non è solamente quella piccola percentuale di patrimonio esposto ma è anche tutto quello che non si vede che si deve conservare e la persona protagonista di questo racconto di questa storia di cui stiamo parlando deve poter entrare in relazione con il luogo con il contenitore con quello che c'è sotto il contenitore con quello che c'è esposto con quello che c'è invece di non esposto che fa parte parte integrante di quel grande racconto questo è un po' in poche parole rapide forse dette con troppa fretta il come dire il senso e l'anima del nostro lavoro il senso e l'anima che abbiamo portato dentro a questa avventura straordinaria di Matera Basilicata 2019 voi avete sentito parlare questa mattina Salvatore Adduce che è venuto qui in qualità diciamo di presidente di Anci Basilicata ha firmato con questo ruolo l'importantissimo protocollo di intesa che ICOM ha come si dice sottoscritto con Anci Basilicata è venuto qui e l'ha detto e l'abbiamo detto come presidente di Matera Basilicata 2019 e l'avete sentito parlare e gli avete sentito dire delle cose ha cominciato il suo discorso richiamando il titolo essenziale e invisibile agli occhi anche io volevo cominciare parlando di questo quindi l'ha fatto lui e non però una cosa la dirò Salvatore Adduce non l'ha detto lui molti lo sanno però forse la maggior parte di voi no è stato il sindaco che ha portato questa città a diventare capitale europea della cultura poi l'amministrazione è cambiata e lui adesso ha un ruolo forse ancora più importante come presidente della fondazione però è stato colui che con la sua amministrazione e con tutti noi insieme intorno alleati vicini compagni di strada ha conquistato una delle cose più importanti che dal punto di vista culturale non solamente per il riconoscimento per il processo che insieme siamo riusciti e lui con quelle sue frasi con quello che ha detto stamattina non ci voglio ritornare sopra io è riuscito a trasferirvi una delle cose più importanti che dal punto di vista culturale l'Italia meridionale questa regione svantaggiata questa città che è stata vergogna nazionale non fino a tre secoli fa fino a 50 anni fa in certo senso forse ancora più recentemente fino al terremoto dell'80 è stata è riuscita a conquistare grazie a un impegno speciale di un'amministrazione che ha messo la cultura al centro del suo diciamo programma e soprattutto mi parlavo con Daniele Giallano non so se è rientrato non ha in nessun modo come posso dire fatto mi viene una parola un po' forte perdonatemi ingerenza sul percorso non ha chiesto ha dato e questa è stata diciamo la chiave forse che ha permesso questa cosa un po' straordinaria che dal 2011 al 2014 poi negli anni successivi con altre velocità Matera e questa regione sono riusciti a fare e nulla è scontato il diciamo il confronto la sfida e anche poi l'incontro perché ci siamo inventati Italia 2019 non è stato come dire facile Matera è passata nell'ultima selezione insieme a Lecce a Perugia a Sisi a Cagliari a Ravenna città con una storia una cultura un patrimonio artistico monumentale è straordinario il tema come dire il senso lo diceva Duce stamattina è un po' centrale ancora in tutti i nostri ragionamenti è stata la proposta progetto quello che di diverso questo grande lavoro di squadra è riuscito a proporre non soltanto all'Italia all'Europa cioè l'Europa ha scelto un programma che aveva l'accessibilità culturale il futuro aperto la trasformazione in non più consumatori di cultura non più visitatori di musei ma in cittadini culturali in cittadini temporanei di luoghi sempre più aperti sempre più capaci di produrre cultura e produrre cultura insieme non far fruire cultura non far consumare cultura non vendere cultura questo è un po' quello che volevo premettere poi il mio tempo me lo sprecherò con questi discorsi introduttivi e l'essenziale è invisibile agli occhi potrebbe essere un po' un paradigma di questa città voi sapete che Matera non è solamente quello che si vede Matera è soprattutto quello che non si vede l'invisibile che c'è sotto a questo visibile domani se visiterete insomma abbiamo previsto insieme alle amiche di Icom che sono state così brave una serie di percorsi di possibili di possibili generari uno di questi comprende un come dire un ipogeo un lunghissimo ipogeo che passa sotto a questo palazzo parte da quel piccolo terrazzino nel quale qualcuno di voi era uscito prima di fare la visita al terrazzo piazza da lì si scende c'è una scala che porta nel viscere della terra e si esce dall'altra parte sulla strada che fiancheggia dall'altro lato il nostro museo bene abbiamo aperto negli ultimi mesi per il 19 di gennaio quando si è inaugurato il programma culturale di Matera 2019 per la prima mostra Ars Excavandi abbiamo aperto questo ipogeo troverete capirete magari visiterete solo questo ipogeo già questo fa capire quanto invisibile quanto vuoto permette di vedere quel meno visibile quel pieno che c'è sopra che è un po' il tema il simbolo il cuore del nostro discorso tutte le cose che si sono dette questa mattina sul rapporto tra patrimoni nei depositi e patrimoni esposti nel rapporto virtuoso importante attraverso le azioni che sono state enumerate attraverso le attenzioni che dobbiamo riservare il rapporto virtuoso che si deve innescare e deve essere tematizzato e diventare proprio una delle chiavi del nostro lavoro tra il patrimonio in deposito e il patrimonio esposto e sempre Jalla prima diceva in un modo scherzoso ma che scherzo non è il patrimonio immateriale abbiamo la fortuna che fortuna che ce la possiamo dimenticare che quindi si si stratifica ma si può perdere e quindi noi dobbiamo saper conservare le tradizioni e tutto quello che però possiamo anche perdere qualcosa il patrimonio materiale è sempre di più quello che si accumula e noi dobbiamo dialogare con questo patrimonio che si accumula certamente non tutto potrà mai essere esposto non tutto potrà mai essere perché è un'altra parte che dobbiamo saper conoscere è un'altra parte con la quale dobbiamo saper come dire confrontarci rapportarci tenere nel modo migliore addirittura in cui gli archeologi mi spiegheranno forse qualcosa a un certo punto lo potremo anche restituire alla terra forse non tutto quello che viene scavato e deve essere capito e ci serve a comprendere meglio la nostra storia dovrà essere necessariamente conservato però allora Tiziani Maffei ha utilizzato per illustrare il suo bellissimo intervento delle fotografie d'autore che raccontano una mostra di cui non ci ha detto nulla per invitarci ad andarla a vedere e io utilizzo noi utilizziamo per questo rapido escursus nella nostra piccola storia anche delle fotografie che arrivano da un progetto molto importante di una commistenza fatta recentemente dal pollo museale grazie a uno degli ultimi passaggi del piano dell'arte contemporanea abbiamo incaricato dieci fotografi del territorio che comunque abbiano avuto a che fare con il nostro territorio fotografi di diversa età di diversa esperienza di diverso linguaggio da Mario Cresce a Francesco Aradino arrivare a alcuni giovanissimi interpreti e vedrete alcune cose molto interessanti abbiamo affidato ma non la parola giusta assegnato a ciascun fotografo uno dei nostri dieci musei uno degli obiettivi che in questi anni ci siamo dati immediatamente capirete perché è quello di mettere in rete realmente i non molti musei che fanno parte della rete del polo museo della basilicata il polo museo della basilicata è uno dei poli più piccoli molto sotto i riflettori in questo momento per le ragioni che sapete e uno dei poli più omogenei perché è composto prevalentemente da musei archeologici al centro c'è il museo storico artistico questo come noi siamo intorno ci sono dieci musei archeologici nove musei archeologici e poi ci sono alcuni altri luoghi della cultura però la caratteristica principale di questo nostro sistema è che è un sistema archeologico io non sono un'archeologa sono una storica dell'arte ho la fortuna di avere da non molto tempo alcuni archeologi che lavorano con me che hanno contribuito a discutere a trovare gli elementi per realizzare anche questa presentazione sono Remigna La Padula che è qua oggi Samino Galbo che invece non è potuto essere presente Mara Romaniello che è a Potenza con loro Antonella Iacovino e altre persone che si occupano dei musei ringrazio anche Tonia Giacoglia che è un'amministrativa che si occupa degli aspetti giuridici e con loro stiamo organizzando questa è la conclusione del racconto che vi voglio fare un'esperienza pilota speriamo di accordo con la consorella soprintendenza diretta dall'architetto Francesco Camestrini per risolvere nel modo più intelligente concedetemelo la questione difficilissima della consegna dei depositi che è uno dei temi centrali dell'attuazione della riforma Franceschini la riforma Franceschini dovrebbe essere attuata da diversi anni il termine ultimo per l'assettamento e appunto la cosa più difficile la consegna dei depositi dalle soprintendenze ai poli museali nati con il PCM dell'agosto del 2014 e poi definiti all'inizio del 2015 siamo all'inizio del 2019 siamo passati 4 anni quindi non un tempo piccolo un tempo lungo e il secondo decreto ministeriale che dava le coordinate le indicazioni per le azioni che dovevano essere scolte prevedeva come termine ultimo il 31 dicembre del 2017 non mi voglio tediare con questi elementi diciamo normativi e amministrativi credo che la maggior parte dei presenti queste cose le conosca molto molto bene però è importante per capire il lo sforzo che il nostro ufficio sta cercando di fare per oddio per arrivare per arrivare a condividere potremmo essere i primi a farlo con la seconda con solella un piano di consegna condivisa che permetterebbe come dire un lavoro sereno per le persone interne e per le persone esterne in particolare una modalità condivisa serena efficace per rendere questi luoghi qui stiamo parlando e dico adesso qualcosa vi faccio vedere più patrimonio per le nostre comunità perché altrimenti ce l'ha come dire cantiamo suoniamo all'interno di piccoli enclave magari un po' in conflitto qui io sono contenta di avere accanto no non una persona in conflitto di avere accanto una soprintendente Cristina da poco dirige la soprintendenza dell'Emilia la soprintendenza archeologia bellearte e paesaggio dell'Emilia e forse il dialogo tra direttori dei poli direttori dei musei autonomi e soprintendenti diciamo incanalato in un'ottica di condivisione di questi passaggi fondamentali strutturali del quello che è il nostro lavoro quotidiano potrebbe essere la come dire la modalità giusta per chiudere una fase io parlo ma in queste settimane in questi giorni si sta definendo forse si è già definita una diciamo revisione di quella riforma cioè c'è una nuova riforma in in corso di cui purtroppo io non molto so quindi le cose che sto dicendo fanno parte forse speriamo di no io davvero ricrocio le dita fanno parte di una storia passata io spero che chi sta decidendo eventualmente di cambiare le cose non getti visto che è stata così faticosa quest'ultima fase non getti il lavoro degli ultimi quattro anni perché il lavoro degli ultimi quattro anni se adesso venisse indirizzato nel modo giusto con i correttivi necessari con la capacità delle persone perché poi sono le persone che fanno le riforme e che fanno i passaggi e che fanno pure la burocrazia e l'amministrazione sempre quelle persone che devono avere quelle buone relazioni di cui prima che possono interpretare e che possono allora questa è una cosa che volevo farvi vedere riconoscete il luogo? questo è stamattina qua davanti mentre noi stavamo dentro fuori nella piazza principale di Matera anche gli studenti di Matera 1500 ragazzi manifestavano contro i cambiamenti climatici Greta ha chiamato e ha chiamato anche nella periferia dell'Italia qua davanti ci tenevo a farla vedere me l'ha mandata un custode un rinunciolatore del rinunirazio anche perché qui credo di avere solamente un minuto perché è appena arrivato il cartello dei 5 minuti non vi dico nulla della nostra rete non vi dico nulla delle attività che facciamo per fare rete ma facciamo attività per fare rete sono moltissime le cose che facciamo i nostri musei sono siccome siamo pochi lo dicevo stamattina è una regione piccola la Basilicata è una regione che si è messa il cammino insieme è una regione nella quale i rapporti quelle famose relazioni sono prossimi cioè uno alza il telefono e la trova la persona comunque deve parlare e allora fare rete per i musei della Basilicata con tutti gli sforzi del caso l'orografia le comunicazioni per farci quanta chilometri ci vuole un ore in metro è tutto vero però si può fare è molto più semplice mettere in rete 14 strutture del Lucane che 45 nel Lazio 39 in Toscana questa è una rete reale può essere una rete reale con le istituzioni locali si lavora molto bene abbiamo un progetto MUST che facciamo qui c'è anche Antonella Jacopino con cui condividiamo ci sono le amiche della Calabria con cui condividiamo una relazione rispetto a MUST ci sono in sala gli amici della Puglia con cui abbiamo insomma si può fare rete ma noi siamo una rete piccola che la riesce a fare concretamente possiamo diventare facilmente modello quella foto questa qua è il contro è il come si dice in termini cinematografici il controcampo dell'immagine dei ragazzi ci sono anch'io scusatemi è l'immagine di una non era una manifestazione è stato il giorno non della vittoria ma nel quale abbiamo accolto tutta la città tutta la regione ha accolto in questa piazza la delegazione della commissione che girava per le sei città che erano passate nella short list a scegliere a capire a conoscere il programma noi li abbiamo accolti in piazza e questo museo dove voi siete con questo portato di casa per la cultura di una comunità è stato il luogo in cui abbiamo fatto entrare i commissari e abbiamo insieme non io non i miei funzionari insieme questa era la parola guida del primo dossier insieme per un futuro aperto siamo riusciti forse a toccare il loro questo è il progetto fotografico di cui adesso rapidamente vi faccio vedere alcune immagini i fotografi ai quali abbiamo assegnato il lavorare e abbinato ecco il termine che non mi veniva abbiamo abbinato il museo potevano fare quello che volevano all'interno del museo potevano scegliere la chiave di lettura il taglio abbiamo poi fatto delle mostre per fare rete nei diversi musei e poi abbiamo portato tutte le mostre all'interno di questo museo le mostre dei racconti dei singoli musei sono diventate un grandissimo racconto in questa diciamo sede centrale perché ve le faccio vedere perché alcuni di loro hanno capito visitando i musei con i funzionari con i referenti ciascuno di loro ci ha vissuto all'interno per giornate alcuni di loro hanno capito che il museo non si poteva leggere se non si leggeva il deposito ecco qua questo è il museo di Melfi per esempio questo è il museo di Metaponto un deposito esterno questi sono qui ancora siamo di nuovo a Melfi qui siamo a Melfi materiali che adesso stanno per essere allestiti in parte nella torre in cui stiamo per inaugurare il percorso medievale del museo quello è Metaponto con i laboratori all'esterno i laboratori che lavano i materiali e ancora i materiali in deposito abbiamo dei progetti importanti il più importante è come vi dicevo questo accordo con la soprintendenza con la soprintendenza un protocollo di intesa diviso in due parti e che è nato naturalmente a partire dalle indicazioni normative che le due direzioni generali di riferimento quella per i beni archeologici architettonici e storico-artistici e quella per i musei hanno dato alla fine del 2017 dando delle istruzioni precise che però non sono state sostanzialmente eseguite hanno creato in tutte le realtà territoriali in tutte le regioni molta difficoltà qual era il tema le soprintendenze in particolare per quanto riguarda i musei archeologici ma non solo devono consegnare conoscete questo punto di tempo è poco non voglio ripercorrere tutti i passaggi però devono consegnare dicevo prima entro il 31 dicembre del 2017 oltre ai depositi anche i servizi connessi ai depositi e questa consegna prevedeva e questo diceva la norma che i materiali invece che provengono dagli scavi in corso o da scavi conclusi da meno di 10 anni rimangono fino al compimento del decimo anno in consegna alle soprintendenze e le soprintendenze dovrebbero trovare degli altri luoghi fare degli altri depositi dividere contesti separare i beni la proposta che noi abbiamo fatto alla soprintendenza è quella di mantenere questi contesti uniti di mantenere questi depositi così come sono lavorare insieme all'interno dei depositi dandoci delle regole condivise naturalmente facendo quello che la norma prevede quindi consegnando con una consegna aperta i materiali e i servizi al pollo ma mantenendo la possibilità di lavorare insieme all'interno di questi nostri depositi per conoscere per inventariare per catalogare da dove serve per fare con gli SCR ringrazio molto anche Giorgio Saldrache qui uno dei progetti e uno dei loro ponte importanti capolavori in 100 km che riguarda anche oltre a tutto il tema dell'inventariazione della conoscenza dei patrimoni nei depositi e nei musei un lavoro straordinario sulla climatizzazione e sui problemi conservativi dei materiali all'interno dei nostri depositi e vado velocemente voi vedete di che cosa si parla questo è il museo di Metaponto concludo dicendo che i depositi devono essere aperti devono essere aperti e vissuti e anche proposti alle comunità come luoghi di scoperta di conoscenza di dialogo naturalmente bisogna farlo in sicurezza bisogna farlo con gli strumenti giusti bisogna farlo anche facendo capire che non è assolutamente la stessa cosa andare a visitare un museo ben organizzato dovevamo le immagini questa mattina e entrare all'interno di un deposito in cui ci sono nel caso che avete visto nei casi nostri cassette ben disposte però cassette aperte poggiate sugli scaffali la ultima mostra di Matera Basilicata 2019 che ha Blin Sensorium ed è la mostra di uno degli artisti dei fotografi più importanti del nostro tempo Armin Link un artista tedesco forse qualcuno di voi l'ha sentito nominare si svolgerà anche nei depositi del Museo Ridola il Museo Ridola è il Museo Archeologico Nazionale di Matera dall'altra parte della strada e adesso vi faccio vedere rapidamente sono proprio bozze di lavoro non torno indietro niente non torno indietro l'idea che Armina di percorrere i depositi mettendo facendo come dire focus sui materiali conservati ma alternando materiali conservati al racconto e ritorniamo al cambiamento climatico al racconto dell'antropocene della crisi dell'antropocene e come questo racconto moderno questo racconto di oggi che parte dall'archiviazione di materiali video documentazione interviste eccetera che negli anni Armin ha stratificato come può dialogare con le testimonianze più antiche paleolitiche e neolitiche di questo territorio che il deposito straordinario del museo Rido la ringrazio moltissimo Antonella Carbone che qui conserva ecco qua un esempio nell'anno della cultura di come lavorando insieme mettendo a sistema le nostre capacità i nostri sogni la nostra visione e la capacità di trasformazione di questo territorio un po' periferico è riuscito a mostrare possiamo parlare di depositi in un po' nuovo possiamo rendere i depositi vivi dinamici e funzionali se mi concedete il termine ad una trasformazione fortissima anche degli allestimenti dei musei grazie grazie Anika sentisco tu accorato appello anche alla comunità museale e a questo insomma diciamo abbiamo introdotto il tema dell'ordinario con effetti speciali però mi sembra altro più ordinario e lascerei la parola velocemente a Carla Di Francesco direttrice direttore della fondazione per la scuola dei beni e attività culturali che ci porta un'esperienza di eccellenza dell'emergenza invece parleremo della regia di Sassuolo grazie mi metto qui faccio così in modo che più sì perfetto bene belli grazie e appunto arriviamo da un ordinario con effetti speciali a un un troppo straordinario che periodicamente tocca all'Italia qui siamo nella Emilia del 20 21 22 maggio 2012 il sisma che in due momenti appunto 20 maggio e 29 maggio ha colpito tutta la zona più o meno corrispondente alla provincia bassa di Modena l'alto ferrarese con delle propaggini sostanziose su Bologna sulla provincia di Bologna e un po' minori di Reggio Emilia queste sono immagini che io scorro perché purtroppo le abbiamo viste sui media e purtroppo le continuiamo a vedere periodicamente in Italia quindi semplicemente i vigili del fuoco che insieme ai nostri funzionari qui non presenti insomma lo sono qui si recano sui luoghi svolgono le verifiche del caso e quando le condizioni di sicurezza lo permettono quindi spesso non immediatamente ma dopo qualche giorno se ci va bene cominciano a svolgere il lavoro di spostamento e prelevamento delle opere d'arte da chiese prevalentemente chiese e musei ridotte come li vedete quando più quando meno il territorio il territorio emiliano è stato colpito molto fortemente molto duramente nel patrimonio artistico e particolarmente nelle chiese e poi è stato reso abbastanza famoso anche per i colpi durissimi che hanno subito le fabbriche e tutte le attività produttive ma particolarmente i capalloni delle fabbriche e in particolare quelle della zona mirandolese dell'Alto Ferranese comunque queste sono immagini a cui in quei momenti lì ci siamo dovuti tutti quanti abituare vi faccio notare subito una cosa gli organi così come l'abbiamo visto anche nella prima immagine gli organi che sono opere d'arte di per sé sono colpitissimi dai crolli e per lo più rimangono lì per mesi come per mesi per anni perché sono pressoché inspostabili perché le chiese non sono in perfetta sicurezza e quindi dopo diversi cicli interventi di messa in sicurezza si può riuscire a smontarli così come e questo va detto una parte del patrimonio anche quando si procede a spostamenti prelevamenti di opere d'arte una parte del patrimonio rimane sotto le macerie finché queste macerie non vengono rimosse e vengono di solito rimosse con tecniche abbastanza sofisticate proprio per evitare di danneggiare ciò che è rimasto sotto ma fatto sta che poi dopo lo vedremo talvolta rimangono parecchio tempo e questo è l'altra parte dei nostri depositi nascosti tragicamente e anche esposti alle intemperie di uno o di due anni ecco questo è un po' per noi dell'Emilia un'immagine simbola è la prima opera che siamo riusciti a far prelevare dai vigili del fuoco qui era la chiesa di San Felice totalmente scoperchiata questa chiesa era rimasta questa pala era rimasta semplicemente appesa ad un filo di muro era in bilico e quindi il giorno prima della seconda scossa quindi questa immagine del 28 di maggio siamo riusciti a farla togliere il problema risolto tra me e che allora ero direttore regionale quindi responsabile dell'unità di crisi e il sovrintendente Stefano Fesciu il problema che si pone immediatamente è il seguente sì andiamo a prelevare la palla del Bernardino da San Felice però dove la portiamo? eccoci qua a Sassuolo perché Sassuolo qualche immagine ma ritengo che più o meno tutti la conosciate questa è l'immagine del piano nobile una delle immagini simbolo della regia di Sassuolo ma al piano terra l'uso militare ha profondamente modificato la struttura ha fatto perdere pressoché per intero la originale partizione muraria per certe parti ma soprattutto tutte le fasi decorative questa la regia era stata acquisita passata dall'Accademia Militare alla sovrintendenza una ventina di anni fa e pian piano la sovrintendenza ha attuato una campagna di restauri periodici con i quali aveva già recuperato sia pure senza uso tutto il piano terreno quindi nella interlocuzione fra me e Stefano che ringrazio davvero ma poi dopo dirò qualcosa anche di lui e dei suoi nelle interlocuzioni abbiamo deciso di che il piano terra di Sassuolo sarebbe stato il nostro deposito temporaneo perché? perché proprietà demaniale perché fuori dall'area di cratere perché aveva gli spazi adeguati di facile accessibilità di buona manutenzione inoltre avevamo già svolto negli anni precedenti un progetto che era stato proprio voluto complessivamente da tutti gli uffici di verifica sismica di livello 1 e per alcune parti di livello 2 su tutti gli edifici museali e sedi di uffici della Regione famiglia romagna quelli di proprietà statale e quindi il Sassuolo era risultato di rischio abbastanza basso e quindi siamo andati lì e perché? perché bisogna provvedere al ricovero temporaneo e in sicurezza dei beni artistici che vengono prelevati dagli edifici che bisognava pensare ad evitare la dispersione ed eventuali rischi da furto poi bisognava censire le opere e classificarle in base al danno subito per poi provvedere alle azioni di immediato intervento di messa in sicurezza ecco un piccolo passo indietro ci siamo organizzati come vi dicevo in unità di crisi ma ciascuno con il proprio compito e devo dire che la unità di intenti la capacità tecnica ma anche relazionale di manna tra chi ha operato sul campo tra sovrintendente direzione funzionari è stata un po' secondo me anche uno degli elementi vicenti di questa operazione ci siamo intesi immediatamente e la direzione regionale ha svolto il suo cioè ha provveduto i fondi ha provveduto a fare le immediate gare laddove servivano per gli interventi di allestimento del deposito di gli incarichi per prelevare le opere in sicurezza a ditte specializzate e che quindi insieme ai funzionari potessero svolgere al meglio il lavoro di portarle a Sassuolo come anche in altri depositi Sassuolo ha ricevuto circa la metà o qualcosa di meno di tutte le opere che sono state spostate danneggiate perché con depositi più piccoli ma comunque verificati prima dai nostri funzionari insomma ai fini della sicurezza della tutela sono stati messi a disposizione da curi e da comuni e da altri enti in modo tale da poter non caricare eccessivamente il deposito di Sassuolo per cui l'allestimento ad hoc per ospitare il deposito è stato realizzato in tempi tutto sommato molto brevi tra giugno e agosto e il 5 settembre abbiamo con l'OVD e di SCR innamorato il loro cantiere scuola cantiere scuola che è andato avanti fino alla fine dell'anno e poi dopo loro hanno passato la mano ma sempre in continuità e con il loro aiuto con l'aiuto dei restauratori soprattutto dell'istituto superiore di restauro e conservazione abbiamo avviato con due campagne successive di messa in sicurezza appunto l'avvio alla messa in sicurezza di tutte le opere cosa che è stata compiuta con l'aiuto finanziario locale quindi della locale fondazione Cassa di risparmio dicevo concluso ai primi del 2015 gli enti forse magari questa la saltiamo perché forse sì vi ho già detto tutto eravamo organizzati in UCR e stiamo parlando di un'era fa cioè del periodo in cui eravamo direzione regionale e sovrintendenza eravamo organizzati in maniera diversa prima della riforma oggi questo centro di raccolta e pronto intervento e tale era e tale rimane è affidato alla sovrintendenza archeologia e belle arti quella appunto che è diretta oggi da Cristina Ambrosini alcune immagini e qualche numero una superficie non enorme 2000 metri in tutto scusate 1600 in tutto di cui un terzo un terzo destinato a campiere di luogo per il cantiere di Vestalo qualche immagine veloce le opere venivano portate così come come si riusciva a fare inizialmente anche talvolta con mezzi di fortuna ma poi appunto vi dicevo ben presto ci siamo organizzati con ditte specializzate l'allestimento vedete i restauratori in particolare Francesca Capanna che stanno allestendo anche dei materiali utili agli interventi di sicurezza questo è il locale principale del laboratorio e qui c'è un'immagine delle infinite tipologie inutili che ve le stia descrivere da su pelletti a statue a quadri soprattutto che vengono collocati da prima con una loro con l'arrivo di cantiere con il scusate con l'arrivo dai luoghi di prelevamento e con l'ingresso la scheda di ingresso e via di questo passo poi dopo ve la descrivo meglio il numero delle opere grosso modo arrivate è 2200 con un picco i picchi iniziali dei primi mesi erano hanno corrisposto al lavoro veramente defatigante che tutti hanno che tutti gli uffici hanno fatto c'è un altro picco che è quello del luglio 2013 semplicemente perché allora siamo riusciti a mettere in sicurezza togliendo le macerie da diverse chiese e quindi i beni che erano finiti sotto le macerie finalmente riescono ad essere ricoverati ecco un punto particolare è il fatto il come è stato organizzato il deposito dall'ingresso all'ingresso immediato all'ingresso alla registrazione al riscontro con le schedature e via via fino alla poi alla messa in sicurezza allo stoccaggio definitivo questa è una mappa parziale dei depositi laddove si tentava con con l'ingresso una appunto boxe scaffalature tutti numerati sia per elementi verticali sia per piani e quindi la distribuzione delle opere suddivisa appunto per criteri dimensionali e topografici rispettando fin quanto possibile le singole unità di provenienza questo per logica ma vale la pena dirlo poi anche la collocazione in base a condizioni conservative e una cosa che vorrei farvi notare che ho segnato in eretto è che c'erano le schede di catalogo di ccd e ccd aggiornate un punto fondamentale di questa operazione venivano riscontrati i materiali che si andavano a prelevare si sapeva quali erano almeno nella stragrande maggioranza poi magari si prelevavano anche quelle piccole cose che non erano altro che fotografate ma moschedate però questo ha enormemente facilitato il lavoro dal prelevamento in sito fino all'arrivo al deposito e al processo interno poi operazioni di riordino e classificazione per uno stoccato in attesa dell'intervento di pronto intervento questo si insomma è un processo abbastanza logico intuitivo ma tutto organizzato e ordinato ad un certo punto le opere che entravano velocemente e avevano il verbale venivano guardate incartate per benino numerate e classificate e inserite secondo quel criterio che vi dicevo prima naturalmente la tipologia delle opere è assolutamente varia vado più velocemente possibile queste sono immagini assolutamente intuitive e inutile che io ve le spieghi ecco uno dei punti difficilissimi di qualunque terremoto di qualunque situazione è quella che è stata descritta anche stamattina da Daniela Pisi e la popolazione cosa dice come si comporta che cosa vuole cosa vuole vuole sapere quando tu porti via che cos'è che fai e vuole non perdere il contatto con le proprie opere noi questo lo abbiamo consentito in mille modi intanto favorendo visite guidate non solo degli studenti delle scuole ma di visite parrocchiali visite diocesale enti proprietari comuni tutti hanno potuto accedere vedere e verificare le operazioni sia di stoccaggio e di diciamo riscontro delle opere sia di messa in sicurezza appunto svolta prima dalle scuole di SCR e OPD e poi dai restauratori una procedura organizzativa vi faccio vedere verocemente quello che veniva fatto per le prime operazioni naturalmente la scheda di pronto intervento la scheda di pronto intervento che poi secondo le istruzioni ministeriali veniva anche a indicare qual è la necessità successiva di intervento faccio più che veloce e poi l'imballaggio per lo stoccaggio definitivo qualche immagine anche per farvi vedere le diverse tipologie le ricomposizioni per esempio parti frantumate questa è una deletate che poi venivano pulite ricollocate per quanto possibile ma le parti impossibili da ricollocare o forse anche inutili vengono imballate e rimesse insieme all'opera per poi essere consegnate al restauratore definitivo diciamo così e quindi queste sono le operazioni successive di stoccaggio definitivo e credo che le opere cristina siano più o meno ancora così a meno di quelle prelevate beh una buona parte spero sia stata prelevata ecco un punto fondamentale di questo di questo lavoro l'uso di un sistema informatizzato che dalla schedatura dell'oggetto già esistente ne riscontra lo stato lo stato di necessità e di pronto intervento con tutta la documentazione del caso e una georeferenziazione utile a ritrovare gli oggetti anche dentro il deposito per cui se il proprietario o lo studioso o il funzionario della sovrintendenza vuole andare a vedere c'è la possibilità usando il sistema SICAR di ritrovare l'oggetto messo in sicurezza dentro il deposito anche solo con una visione topografica il piccolo miracolo va bene ve lo mostro così ma arrivo mi avvio subito alle conclusioni posso dirvi che questo piccolo miracolo è stato quell'intervento di messa in sicurezza che ci ha garantito la come posso dire la vicinanza l'amicizia e finalmente l'apertura di credito della CEI regionale perché ci avevano accusato di voler prendere le opere e di non restituirle più questo è un fatto abbastanza naturale ma insomma per i primi tempi l'abbiamo purtroppo subito quando il responsabile della CEI regionale ha visto questo non tanto non credeva ai suoi occhi e poi gli ho visto spuntare una lacrimuccia e confesso che quello è stato un momento molto importante ecco ecco mi avvio appunto a conclusione questa operazione è stata positiva secondo ai nostri occhi intanto forse anche per numeri non mostruosi come sono invece quelli di altri di altri sismi però c'erano le precondizioni di un buon esercizio di tutela ordinaria precedebrali cioè le schedature l'individuazione delle opere d'arte la conoscenza topografica e inventariale dei beni dove si doveva andare il catalogo delle chiese o comunque dei monumenti associato al catalogo delle opere d'arte la sicurezza anche del complesso architettonico in cui era inserito e inserito il deposito e da qui mi posso permettere queste due ultime considerazioni le faccio a seguito e finalmente dopo di queste tragedie susseguenti dall'Aquila all'ultimo terremoto negli anni nel 2017 con la legge di bilancio del 2017 e quindi del 2018 abbiamo programmato con l'aiuto delle sovrintendenze l'hanno programmato loro in realtà un primo piano di sicurezza sismica del patrimonio culturale da 371 milioni e inserito nella legge di bilancio 2018 ulteriori 278 milioni quindi c'è un gruzzolo che diciamo dall'anno scorso ai prossimi 4-5 anni potrà assolutamente migliorare le condizioni almeno dei musei e immobili più importanti ecco la cosa che volevo segnalarvi è che naturalmente in questo piano per segretariato generale allora c'ero io e la DG ABAP hanno dato precise indicazioni alle sovrintendenze di prevedere anche di interventi di individuare interventi o comunque individuare immobili nei quali predisporre depositi di preemergenza in edifici possibilmente demaniati questo è un punto che poi ha restituito da parte delle sovrintendenze forse non tantissime proposte ma comunque era mirato anche a dire che i depositi sono assolutamente fondamentali se sono anche già preparati e dopo l'emergenza e qui concludo veramente posso dire che l'esempio anche tra l'altro pubblicato nel nostro libro di rapporto dei primi sei mesi dopo il sisma è stato seguito e è stato seguito anche grazie alla continuità che è stata garantita dagli interventi OPD e ISCR e posso dirvi anche che il caso del Santo Chiodo di Spoleto è forse un precursore del deposito sassuolese perché la regione Umbria dopo il terremoto del 97 aveva realizzato proprio costruito il deposito di Spoleto però purtroppo lì non hanno la schedatura non hanno la schedatura dei beni ecco due piccole indicazioni su questo tema dei depositi ma anche più in generale evidentemente del come affrontare un sisma ci sarebbe voluto e ci vorrebbe saremmo sempre in tempo a fare una riflessione più complessiva mettendo insieme i buoni esempi tecnici e organizzativi perché l'organizzazione è un punto assolutamente fondamentale di momenti come questi e da qui ci si porterebbe dietro e qui divento la direttrice della scuola una formazione di gruppi di tecnici ad hoc perché non possiamo pensare che tutti i tecnici e tutto il personale del ministero o tutti i volontari o tutti i funzionari dei comuni siano o si improvvisino esperti in quei momenti bisogna arrivare a squadre tecniche magari regionali ma che comunque i primi momenti siano in grado di impostare l'intervento per l'intervento complessivo e quindi anche l'organizzazione dei depositi in emergenza lì ancora non ci siamo arrivati e purtroppo ad ogni terremoto se non si inizia da zero è quasi forse sui depositi non proprio abbiamo fatto forse un passettino avanti grazie grazie a Carla di Francesco perché innanzitutto ci ha portato una testimonianza per me molto importante che in mezzo a tante cose che non vanno qualcosa va e soprattutto l'Italia impara dai propri errori in piccoli passi li stiamo facendo io direi anche la scuola di informazione è fondamentale ci sono tante esperienze tanti terremoti che ci hanno insegnato ogni volta ad mettere migliorare soprattutto una cosa fondamentale e questa io la sottolineo è che i rapporti le relazioni umane sono alla base di una buona logistica perché la logistica senza relazioni umane non può funzionare anche lo stesso questo sicuramente l'abbiamo imparato e il testimone passa adesso a Cristina Ambrosini che lo passa fisicamente in quanto oggi è sovraintendente dell'archeologia e ci racconterà anche in questo caso come i rapporti umani poi sono i rapporti relazionali i rapporti fra le istituzioni mi è piaciuto molto questo dire che la CIA ha avuto fiducia la CIA ogni volta deve essere stimolata ad avere fiducia ma da punto insomma se riusciamo a creare questi rapporti precedenti sicuramente le cose sono più facili grazie e Cristina la parola grazie grazie non si sente prendo il testimone da Carla di Francesco in questo momento perché chiaramente come è stato detto il centro il centro di raccolta di Sassuolo come attività appunto è ancora in azione e diciamo si è aumentati tra virgolette nella fase ordinaria dell'emergenza questo gioco di parole con alcune difficoltà legate alla riforma che tra capo e collo si è messa e quindi di riorganizzazione dell'attività non parlerò di questo perché mi è stato chiesto visto che io sono un archeologo almeno lo ero tanto tempo fa facevo l'archeologa di inserirmi nel discorso così caro a noi da tanto tempo dei depositi museali con i depositi archeologici però appunto ci tenevo a un riaggancio per dirvi quanto appunto la riflessione sia in corso attualmente perché il centro di raccolta di Sassuolo volevo dire ha cominciato dal 2015 a restituire goccia a goccia le opere che sono attualmente in alcuni casi presso i laboratori di restauro per quelli definiti appunto interventi di restauro perché seguono l'andamento e il cronoprogramma dei lavori sui contenitori per prepararsi a tornare nei contesti originari laddove possibile sempre prioritario in altri casi siamo entrati ora nelle fasi dei progetti esecutivi dei progetti di restauro dei beni immobili e quindi di conseguenza all'interno appunto dei progetti delle possibilità di migliorire richieste vi è anche per fortuna vi è stata l'attenzione dei soggetti proprietari dei soggetti finanziatori a prevedere interventi sui beni mobili quindi questo lavoro del centro di raccolta continua e stiamo appunto considerando la possibilità assolutamente fattibile di mantenerlo come centro di raccolta di preemergenza con una possibilità di servire un'ordinarietà museale sovralocale in certo qual modo e penso sia un'altra interessante sfida all'interno di ovviamente beni e contesti come avete visto il Palazzo Ducale di Sassuolo che non proporsi certamente nelle premesse degli ottimi spunti che abbiamo avuto stamattina i nostri contesti sono spesso e volentieri i depositi dentro edifici tutelati dentro edifici che loro stessi sono beni culturali e quindi non partiamo dal zero ecco mi calo subito nelle caratteristiche nelle peculiarità dei depositi di scavo dei depositi archeologici perché ho pensato questa manciata di slide partendo dal caso di Imola ma anche qui vi dico il caso di Imola è assolutamente un caso che mi è stato chiesto di ripresentare perché ha tutti quegli ingredienti pronti per germinare bene e per svilupparsi in un'ottica di deposito attivo di arca del patrimonio intesa anche per porci una riflessione sul tema dei depositi museali in particolare archeologici in questo caso ma non voglio trovare sul tema tipologie sempre in un'ottica patrimoniale in che senso nel senso che ci riporta alla questione deposito che non è solo una struttura fisica ma è un servizio fondamentale un elemento vitale il cuore vero del museo e che lega il museo al territorio e quindi torna in capo in maniera preponderante il livello della tutela il concetto di tutela di una tutela che però va fatta non sganciata impossibile dalle relazioni dalle relazioni con i musei dalle relazioni con i poli con i musei autonomi perché se parliamo di spazi fisici adesso i depositi sono per la parte statale presso i musei nazionali o presso i musei delle realtà dei poli ma sono anche lo sappiamo presso i musei non nazionali musei locali ma anche e nel caso di Emilia Romagna in questo è un'esperienza di buone pratiche diffuse e non dall'altro ieri da molto tempo presso istituzioni locali anche già non solo musei quindi fortemente innervate nelle realtà delle comunità territoriali è un'esperienza questa che toccherà come vedete il mio intervento riguardando i depositi di scavo legate alle esigenze di un territorio di un esigenze di un territorio che produce enormemente per quanto riguarda il patrimonio archeologico materiali tutti i giorni quindi da un lato stamattina veramente è stata stimolante la sessione e tutto quello che è stato raccontato descritto finalmente senza mettere parole parlando chiaro di quelli che sono le eccellenze ma anche di quelli che sono i problemi aperti si diceva dei depositi gli addetti ai lavori parlano dalla metà degli anni 70 quindi non nascondiamoci dietro a finti discorsi sappiamo bene che sono ancora per noi e parlo in particolare dei depositi di scavo in molte situazioni ancora delle realtà sommersi e problematiche ignorate da decenni non da chi ci lavora e ha tentato di conviverci e di farne un ragionamento fattivo anche a fatica con molta fatica per la ricerca per lo studio ma ignorate per troppo tempo a livello di riflessione teorica e metodologica che è stata intrapresa spesso in recinti molto ristretti e molto autoreferenziali cioè siamo scarsamente riusciti a portare il tema sui tavoli decisionali per come si diceva stamattina quante volte avete visto un politico inaugurare un deposito piace poco forse non si presenta bene non è così non ha appeal ecco invece il tema è importante io riprendo brevemente questa frase che è stata appunto poi rilanciata perché è vero allora si tratta di un tema che naturalmente non è stato sollevato negli atti nel convenio di Ferrari del 2014 ma storicamente gli archeologi lo sanno da sempre e propongono senza sosta da molto tempo questo tema senza mai avere una risposta istituzionale si svolgono quotidianamente migliaia di scavi che le soprintendenze per chi è maniera ma anche nuova modalità dirigono fanno una tasso e dirigono a livello tecnico-scientifico insieme ai professionisti sul campo quelli dell'idea archeologica specializzate ecco ma gli scavi di ricerca sono una diciamo sono una decima parte rispetto agli scavi di emergenza o ancora meglio di scavi di archeologia preventiva che sono scavi obbligati sul territorio quindi torniamo ad agganciarci sistematicamente al tema territoriale quindi settimanalmente mensilmente nei depositi e qui non è importante chi ha il controllo e la gestione dei depositi ma in questi luoghi fisici arrivano casse e casse di reperti ok quasi mai il poscavo o meglio non è così che il pero sto facendo semplificando ma il poscavo prevede tutta una serie di azioni che fa arrivare adesso i materiali molto più puliti di come arrivavano vent'anni fa molto meglio organizzati nella separazione dei materiali organici e dei resti ceramici per le varie tipologie di materiali non è questo il punto ma arrivano quantità enormi di materiali diversificati anche nelle dimensioni nelle caratteristiche nella possibilità di essere movimentati e è vero voglio riflettiamo di nuovo tutti sul termine giacciono nei depositi cioè questo giacere che a questo senso li arrivano e li stanno ok stanno in modalità che certo con cura con attenzione con molta immaginazione spesso portano a trovare degli spazi ricavati ok ma non progettati pensati prima quasi mai abbiamo la possibilità di ragionare in questi termini e questo è tanto vero per i musei nazionali abbiamo visto dalle fotografie quelle vere l'altro lato della medaglia di stamattina per i musei nazionali ma per i musei non nazionali ci sono depositi ben organizzati a tutti i livelli già ben organizzati in maniera ordinaria grazie alla volontà e alla capacità professionale cresciuta negli anni di esperienza molte volte e qui sto parlando già di personale che è un valore importantissimo e che nel giro di mesi o pochi anni noi stiamo per perdere a tutti i livelli ma non per perdere perché ci stanno lasciando perché hanno dato il loro contributo e vanno in pensione ecco tutta questa capacità fattiva e organizzativa noi la dobbiamo far valere come valore e deve produrre qualcosa di nuovo ma di più sistematico i reperti giacciono nei depositi e adesso veramente per quanto riguarda i depositi archeologici io sono convinta che siamo ad un livello di emergenza perché la riorganizzazione e la sistemazione in affare ordine ok è avvenuto ma è avvenuto manualmente è avvenuto in una modalità che almeno fisicamente è una situazione di partenza che non deve sconfortare ma non possiamo più fermarci e devo dire che sono convinta e condivido questo concetto la riforma Franceschini con tutti quei problemi gestionali che ancora ci costringe a gestire e come diceva Marta prima grazie alle relazioni grazie alla tenacia e al fatto che ognuno di noi non sta parlando qui da soprintendente da dirigente da funzionale sto parlando da addetta con un profilo oggi questo domani chissà e io e l'altro ma tutti noi sappiamo che cioè noi teniamo il patrimonio e quindi ragioniamo finalizzati a questo patrimonio e forse siamo i primi a aver capito da un po' di tempo quello che Valentina giustamente ha letto stamattina nella relazione del professor Barzani non è una cultura cosale la nostra da tempo noi ragioniamo con un'accezione di tipo patrimoniale inteso perché altrimenti nessuno di noi avrebbe fatto fino ad oggi e non continuerebbe a fare ad agire così come sta agendo quindi questa riflessione per me è importante è importante la dobbiamo maturare ora insieme ai territori e alle comunità questo per me è tanto più vero e declinato così come mi è stato chiesto per i depositi archeologici quindi Ada Gabucci l'aveva detto e insieme lei e molti altri nei recenti approfondimenti c'è una bibliografia sul tema dei depositi e dei depositi archeologici molto interessanti la riforma ha fatto emergere il problema colossale dei depositi archeologici perché noi dell'archeologia siamo quelli che spesso e volentieri arriviamo con delle casse ingombranti o delle soluzioni appunto di rimozione da scape di smontaggi e rimontaggi impressionanti per un direttore di un museo impressionanti quando arrivo e dico dove lo metto sto forno fusorio di scatolato ecco quindi so di dire delle cose faccio riferimenti alla situazione che poi vedete qualche immagine di Imola ma di molte altre situazioni pensate a quante volte questi reperti che giacciono sono quintali sono quintali di materiali e di appunto si stia approvviva di apprestamenti provvigionali che sono necessari per conservare ma ci pongono il tema di conservare per chi e come e dove per quanto tempo torniamo lì perché spesso questi ingombranti materiali giacciono da decenni in depositi senza avere un'idea di futuro e di una visione verso una restituzione allo studio tante volte quando arrivano la pubblicazione ma si sono in una situazione in teoria di non restauro completato non visualizzazione e sono in una situazione tra coloro che sono sospesi in sostanza quindi la consapevolezza non solo tecnico specialistica rispetto alla problematica colossale dei dei reparti archeologici c'è ma io ritengo che a questo punto dobbiamo parlare di una consapevolezza etica e voglio riagganciare ai temi di questa mattina io in questo slide li ho preparati prima quindi non c'è stato ma ero sicura che stamattina si sarebbe parlato tra persone che appunto sul tema lavorano da decenni e che io ringrazio perché ci permettono oggi per chi si trova a dove fare quelle scelte è stato anche formato in un certo qual modo ed è un tema anche di politica di gestione del patrimonio culturale perché se non lo prendiamo in carico anche sotto questo punto di vista ci saranno certamente i potenziali danni scientifici ma anche patrimoniali dovuti all'indifferenza un'indifferenza che non è ammissibile si tratta di un patrimonio ingombrante e che adesso ha raggiunto caratteri emergenziali è in continuo incesante incremento l'ho detto è vero per noi c'è una scassità di spazi adeguati tutti vorremmo sognare ma noi siamo qui piedi per terra quindi trovare gli spazi non solo nei musei ma penso che nei nostri territori a tutte le latitudini ma stiamo nel nostro paese possiamo declinare questa necessità facendo lo sforzo di leggere nelle realtà territoriali sovralocali e qui il discorso di sistema e di rete io lo volevo declinato non solo sul tema delle attività ma sulla rete infrastrutturale è stato accennato stamattina quindi il problema dello stoccaggio della cura dei materiali della gestione della sostenibilità proviamo a fare un censimento anche di luoghi spazi che abbiano dei prerequisiti di idoneità ma che non siano legati semplicemente alle realtà museali che stiano in connessione con le comunità ma probabilmente si tratta di edifici particolarmente dismessi o che comunque possano essere recuperati una funzione pubblica quella dei depositi come servizio è una funzione pubblica su patrimonio primaria e che si lega molto bene a quello sviluppo di progetti sull'idea dell'arca del patrimonio ok quindi abbiamo tutti gli ingredienti dobbiamo imparare a fare il sistema e insistere perché questo sistema venga lanciato seguito sostenuto ma senza pause senza metterci in stand by perché non è più sopportabile a livello centrale ok quindi torno sul tema della selezione quindi la raccolta sistematica dei materiali dei reperti archeologici sto toccando un tema lo sto solo accennando molto sensibile è importantissimo guai nessuno di noi rinuncerebbe alla logica dei contesti ma attenzione perché troppo spesso e ce lo siamo detto a bocca chiusa questa raccolta sistematica è stata una raccolta indifferenziata ok quindi il tema va posto al momento dello scavo e a bomba torniamo sul tema delle figure professionali che vanno formate vanno allenate e ci sono e ci sono tanti giovani che adesso hanno anche un approccio mentale molto già pronto in questo senso dobbiamo avere il coraggio a questo punto di iniziare una via nuova e il patrimonio archeologico vuoi perché è arrivato a un punto emergenziale lo pone ecco il caso di Imola effettivamente è un caso per cui io non ho nessun merito come potete fare quello di Modena perché abbiamo dei depositi grazie ai sani e longevi rapporti con gli enti locali ma anche in Romagna anche ci sono tantissimi casi di depositi museali già rispondenti ma depositi e il caso di Imola ci permette questo accenno ha un deposito che non sta è del museo civico ma non sta in un museo sta nel vivo del cuore della comunità e sta in un centro polivalente dove ci sono scuole ci sono servizi alla comunità servizi di welfare sportelli per le mamme per le famiglie quindi l'immagine dentro e del fuori vi fa capire come tutto ciò è già in parte in realtà guardate qua c'è museo civico deposito archeologico palloncini di una festa di compleanno fuori ma qui e io so che sto raccogliendo e ringrazio chi ci ha lavorato tanto e conosce bene questa realtà bellissima e quindi l'accessibilità il deposito aperto seppur con le caratteristiche nostre ma legate a situazioni vissute che si raccontano già come sostenibilità quindi non solo come attività ma come accesso per studio come diciamo avvio davvero di un lavoro perché il deposito è là dove si produce cultura è ciò che aiuta a capire quindi vedete il bello è brutto sicuramente perché qui ci sarebbe ancora qualcosa per terra che non va bene ok ma c'è già un senso di ordine di organizzazione ci sono persone che hanno lavorato pazientemente e che hanno appunto consentito di avere una situazione già ordinata ecco le famose cassone con il tombone che giacce e che probabilmente fa fatica anche a trovare un'altra collocazione ma che ci porta ad immaginare appunto quanto con fiducia perché voglio dire queste sono per noi situazioni di partenza situazioni non di partenza da nulla sono situazioni avviate di buone pratiche che hanno già 10-20 anni che hanno già testato su cui le persone le professionalità hanno fatto palestra sana nei territori il sistema Bava non sistema Italia è questo abbiamo tante buone pratiche ma dobbiamo fare oggi come più il balzo in avanti grazie 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 Cristina per aver riportato il tema della comunità e patrimonio un tema molto caro io penso a noi di ICOM e questa soluzione della comunità e del patrimonio che operano insieme quelle risorse umane che comunque dialogano fra di loro che vanno fuori dal diciamo dagli schemi anche dagli imposizioni amministrative ma che si mettono insieme forse potrebbe essere una soluzione per risolvere il problema colossale dei depositi chissà che faro questa convenzione che stiamo tutti aspettando non ci dia una mano quindi io adesso passerei appunto la parola a Domenico Sedini che e quindi all'impresa all'impresa all'art collection management Art Defender che ci dice che si organizzare come abbiamo parlato prevenzione ma passare anche da una logistica stanziale alla logistica dinamica una delle cose che non sono riuscita insomma il tempo veramente qui è molto tiranno però è vero che molto spesso i nostri depositi si aprono da depositi ordinari e diventano depositi emergenziali vai per lo scavo che è archeologico che arriva vai per la calamità naturale che arriva quindi la flessibilità la dinamicità la capacità comunque di reagire è fondamentale e questo sicuramente ce lo dà la formazione sicuro e poi anche magari un metodo grazie 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 a tutti sono particolarmente lieto di partecipare a questo altro consesso anche perché può capitare che sia chiamato a testimoniare sul nostro lavoro come a defendere l'arteria in situazioni dove risulta non sempre facile adattare il nostro messaggio che è un messaggio di lavoro di una società privata rispetto alle esigenze del pubblico in questo caso veramente parliamo la stessa lingua anche se vediamo vedremo che diciamo i referenti sono diversi le situazioni sono notevolmente diverse però il fine ultimo la mission come oggi diciamo legata alla nostra attività è identica perché riprendendo appunto il titolo di riferimento un oggetto di Arendt un oggetto può dirsi culturale nella misura in cui resiste nel tempo questo è tendenzialmente proprio la volontà nostra come società di offrire dei servizi che permettano di garantire la trasmissione dell'opera d'arte delle generazioni future peraltro si potrebbe qua aprire una finestra ma non è senzato quel caso su questa affermazione di Arendt che parla dell'oggetto che resiste nel tempo pensiamo all'arte contemporanea a tutte le problematiche legate a garantire il buono stato di conservazione su opere che magari sono state realizzate con materiali di scarto e assolutamente deferibili questo comunque è un discorso è un discorso a parte comunque dicevo appunto che sono praticamente felice perché non mi tocca fare in qualche modo come a volte può capitare l'intervento dello sponsor tecnico in cui magari si fa un po' la fine del Mastrota che vende i materassi o le pentole in televisione per cui non c'è assolutamente questo questo rischio oggi entrando in argomento vi dicevo appunto la nostra attività si sposa assolutamente con questa necessità di conservazione del patrimonio e la nostra storia se voi la conoscete come Arteria Barra Defender è legata proprio a questo tendenzialmente per chi non la conosce l'attività prima di Arteria nasce intorno all'inizio degli anni 2000 però posso incominciare magari a far vedere qualche slide come si fa portare avanti questa quella di destra scusate faccio ecco nasce da esperienze precedenti di piccole realtà locali che ad un certo punto si mettono insieme in un disegno comune e creano questa società legata diciamo di dimensione nazionale con anche riferimenti importanti soprattutto sul mercato americano soprattutto per quanto riguarda i trasporti museali americani e anche giapponesi in particolare è legata al trasporto in sicurezza delle opere d'arte è inutile che adesso stia qui a raccontarvi le capacità di arteria che presumo spero siano conosciute sul mercato è divisa in diversi settori a seconda delle esigenze c'è un campo legato all'attività di riferimento con i musei un'altra parte della società legata all'attività per quanto riguarda i privati le gallerie esiste un'attività abbastanza recente legata anche alla costruzione di teche e di cornici di sicurezza che permettano sia da un punto di vista diciamo così fisico che anche di conservazione la possibilità di garantire delle condizioni assolutamente ideali per la conservazione dell'opera stessa insomma è un'attività che essendo partita appunto all'inizio degli anni 2000 ad un certo punto ha trovato come suo sviluppo ulteriore quella di costituire dei depositi per la conservazione delle opere d'arte questo in un modo molto banale se si vuole perché molto spesso i nostri clienti soprattutto clienti privati chiedevano non solo il trasporto ma anche una custodia a lungo termine di beni che per esempio una fondazione di carattere bancario o anche un collezionista privato non era in grado di custodire a casa perché diciamo non c'erano più gli spazi per poter conservare tutte le opere d'arte in caldo piuttosto appunto ci dicevo per una fondazione nei locali della fondazione stessa e quindi nasce nel 2010 nasce Art Defender che opera esattamente nei termini dei quali oggi abbiamo discusso nel senso che si garantisce la sicurezza sia dal punto di vista del furto quindi tutte le problematiche legate a una struttura veramente forte dell'edificio sono tutti edifici di nuova costruzione costruiti anche con criteri antisismici dopo di che abbiamo tutto il discorso legato alla sicurezza antincendio quindi anche con dei criteri degli strumenti di sicurezza per quanto riguarda appunto la gestione eventuale di un problema di questo tipo abbiamo anche da poco cosa che potrebbe essere utile magari per qualche museo che organizza mostre nei paesi extraeuropei un deposito doganale per il quale si custodiscono le cose senza dover pagare la tassa di ingresso nella doganale nel nostro paese e inoltre abbiamo tutta una serie di servizi accessori in particolare il laboratorio di restauro quello di di canenzano in particolare è assolutamente dotato di delle strumentazioni più adeguate per la conservazione degli oggetti e il restauro del patrimonio artistico studiato inizialmente insieme all'opificio delle pietre dure e nel quale è possibile che i restauratori per situazioni particolari o perché l'opera è particolarmente importante o perché ha dimensioni così grandi da non poter essere restaurata nell'ambito dello studio di restauro vengono portati all'interno di questi spazi e restano per tutti per tutto il periodo del restauro fino alla riconsegna al cliente e poi appunto abbiamo ripeto tra i servizi integrati legati appunto alla gestione delle opere date siamo in grado anche di offrire le diagnostiche e i trattamenti di disinfestazione nel caso in cui le opere fossero attaccate da parassiti ultimo argomento peraltro importante perché ho visto che ho riportato anche nell'ambito della presentazione è l'attività di stima e di consulenza cosa peraltro importante soprattutto per quanto riguarda la stima patrimoniale delle opere che soprattutto per quanto riguarda i privati e quando penso i privati non si parla soltanto di collezionismo ma si parla per esempio delle fondazioni bancarie io ho avuto un'esperienza in questo settore in quanto dal 2004 e negli anni successivi mi sono occupato della stima del patrimonio artistici di molte delle banche italiane delle fondazioni delle fondazioni bancarie italiane e questa attività iniziale di inventariazione molto spesso non esisteva nemmeno un inventario avrei questo a questo proposito degli anedoti simpaticissimi da raccontare ma non posso farlo perché rischierei la querela e quindi però vi posso dire che per esempio una bellissima fine di Dio di Fontana che adesso è esposta alle gallerie d'Italia a Milano era lasciata abbandonata in un deposito dimenticato del Banco San Paolo che era da loro proprietario in quanto nessuno dei dirigenti della banca apprezzava Fontana e quindi nessuno la richiedeva per appellire il suo ufficio questo era il criterio che veniva utilizzato nella gestione del patrimonio artistico delle banche è stato utile appunto vi dicevo questa attività proprio perché è servita a far capire agli istituti l'importanza della collezione e ha dato il via poi a questa esperienza che per esempio per quanto riguarda Banca Intesa ha portato alla realizzazione delle gallerie d'Italia ecco tornando più al nostro tema quindi abbiamo visto come l'attività di gestione dei depositi volta soprattutto al patrimonio artistico privato di fondazioni private eccetera è un'attività che è parallela a quella di cui tendenzialmente abbiamo parlato oggi quello che la differenza fondamentale direi che io ho inquadrato è il fatto che nel nostro deposito uno degli elementi fondamentali è quello della riservatezza e della segretezza nel senso che tendenzialmente non si deve sapere che cosa c'è all'interno dei depositi stessi al contrario invece un patrimonio artistico pubblico deve essere assolutamente pubblico però se volete vi racconto questo anche per capire come in realtà poi ci possano essere delle soluzioni delle situazioni di collaborazione che sono le ultime due slide poi ho finito allora in un caso si tratta di un caso non di emergenza di gestione diciamo straordinaria di un patrimonio artistico e poi invece vediamo anche un caso di emergenza ecco uno dei casi è quello del museo dell'opera dell'uomo di Firenze che ha dovuto subire una ristrutturazione importante dei locali le opere sono state portate da noi a Calenzano e nel frattempo durante la custodia presso il nostro impianto sono state anche oggetto di restauro fino a quando poi sono state riportate a Firenze in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del museo la seconda invece che si sposa con quanto abbiamo è legata al museo civico di Cento che era stato reso inagibile dal terremoto in questo caso che cosa è intervenuto è intervenuta l'assicurazione perché il museo era assicurato e l'assicurazione ha pagato le spese di giacenza presso il nostro impianto e peraltro in questo caso anche noi abbiamo aperto le porte dell'impianto stesso in quanto nel gennaio del 2013 abbiamo realizzato un'esposizione insieme al dottor Gozzi del museo e abbiamo esposto per qualche tempo le opere soprattutto di Guercino ma non solo che erano depositate presso di noi quindi volevo dire ecco ci possono essere delle situazioni comunque di collaborazione anche perché tendenzialmente quello che io ho notato poi io chiudo veramente è il fatto che a parte le situazioni di emergenza come è avvenuto per Sassuolo ma l'idea la possibilità di realizzare un deposito ben strutturato e ben gestito richiede comunque un impegno economico molto importante e io mi auguro che si possa arrivare a questo risultato però in questo momento sono anche un sostenitore della sussidiarietà che non è una parolaccia e quindi a mio avviso ci possono essere delle situazioni contingenti in cui il privato come nel nostro caso può venire in aiuto anche dell'istituzione pubblica e noi abbiamo visto che tendenzialmente questa è la nostra esperienza peraltro e poi chiudo davvero noi collaboriamo anche con l'ICOM per quanto riguarda il tema delle emergenze perché con Cristina Resti di Azzard e della commissione e noi come a Defender abbiamo ospitato più volte la commissione presso i nostri impianti coordinatrice di commissione allora grazie grazie a tutti i nostri regatori per aver discerato trofi e molte felici in questa sessione dei nostri depositi lascerei la parola adesso alla collega Lanziger che ci proverà un tranquillo pomeriggio a Nuse grazie a tutti grazie a tutti buonasera entriamo nella fase di dibattito con interventi programmati temo che ci saranno più interventi programmati e molto programmatiche dibattito insomma abbiamo parlato anche del rapporto tra collezioni e nostro pubblico per amore di sintesi che facciamo pensiamo che facciano i nostri visitatori e i nostri pubblici quando diciamo beh parliamo delle nostre collezioni allora io vi farei vedere come abbiamo promosso un pomeriggio dei pomeriggi a visitare le nostre collezioni un pomeriggio un pomeriggio un pomeriggio un pomeriggio un pomeriggio No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.